Daniele Bossari ha combattuto con un tumore alla gola, ma cosa gli è successo? I dettagli all'interno dell'articolo Daniele Bossari ha fatto un'inaspettata confessione, il marito di Filippa Lagerbeca ha raccontato via social di aver combattuto con un tumore alla gola, ma cosa gli è successo? Leggi anche, Bruce Willis malattia, che cosa l'attore? Si è aggravato, ecco come sta e ultime notizie Daniele Bossari e il tumore alla gola Daniele Bossari, tramite un lungo post di Instagram, ha spiegato cosa ha passato negli scorsi mesi L'ex Geffino ha raccontato di aver combattuto con un tumore alla gola e di essersi sottoposto a diverse sedute di radioterapia e chemioterapia Ecco le sue parole sul social, l'aiuto di Filippa Lagerbeck nel delicato periodo affrontato da Daniele Bossari a causa del suo tumore alla gola, fortunatamente, non è mancato il sostegno di sua moglie Filippa Lagerbeck, di sua figlia Stella e di altri amici e parenti stretti La loro è una famiglia più forte e unita che mai Alla fine del suo lungo post, poi, Bossari ha voluto ringraziare l'equipe di medici dell'ospedale San Raffaele di Milano, Filippa Lagerbeck insieme a Daniele Bossari e la loro primogenita Stella Foto, Chiocciola Filippa Lagerbeck Il virgola al momento non si hanno altri dettagli circa il tumore alla gola di Bossari, ma l'ex Geffino ha specificato che prossimamente darà ulteriori notizie di sé ai suoi fan Seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video